Qualche settimana fa dopo l'apparizione di un misterioso Pokémon glitch sul sito ufficiale di Pokémon Spada e Scudo che anche io avevo ricondotto a Surfech, l'evoluzione del Pokémon di prima generazione Farfetch è stata finalmente annunciata da The Pokémon Company, portando con sé alcune risposte ma altre tante domande. Da subito infatti è risultato evidente come l'esclusività di Surfech, ottenibile solo in Pokémon Spada e a questo punto immagino anche di Farfetch, nasconda a suo modo un'altra evoluzione regionale di un altro Pokémon questa volta esclusiva ovviamente di Pokémon Scudo. Dunque nel video di oggi proveremo sulla base di casi simili avvenuti in passato a trovare un proprietario a questa fantomatica evoluzione e a risalire per quanto possibile ad un identikit generale di quest'ultimo. Dunque senza ulteriori induci vi do il benvenuto a questo nuovo video. Metto subito le mani avanti e vi dico che il compito è molto arduo perché possiamo basarci solo su suggestioni passate e su congetture che non ci danno assolutamente certezze. Ciò nonostante questo è l'unico modo che abbiamo al momento per addentrarci nella questione e dunque il primo elemento che andrà a comporre il nostro palazzo ci riconduce inevitabilmente ad Alola, in particolare alle forme Alola di Ninetales, Sandslash e pre-evoluzioni. Le due nuove catene evolutive in Pokémon Sole e in Pokémon Luna vennero infatti per così dire separate e rese esclusive di due versioni differenti. Il Pokémon Volpe venne assegnato a Pokémon Sole mentre al Pokémon Topo toccò Pokémon Luna. Se volessimo seguire questo pattern individuato ad Alola anche per quanto riguarda l'evoluzione gallariana di Farfetch che peraltro è una cosa diversa rispetto al concetto puro delle forme Alola allora dobbiamo rivedere alcune delle ipotesi che sono state fatte negli ultimi giorni. La prima di queste è stata attribuire una fantomatica evoluzione gallariana a Pokémon simili per ispirazione e statistiche a Farfetch stesso e a titolo esemplificativo potremmo dire due nomi quali Deliberd e Chatot. Eppure tornando al nostro esempio all'oliano, Ninetales e Sandslash non sono lo stesso animale nemmeno in lontananza e peraltro non rappresentano nemmeno una controparte canonica del mondo Pokémon. Per intenderci la controparte effettivamente canonica di Ninetales come ben sappiamo è Arcanine. E seguendo lo stesso ragionamento che si vorrebbe applicare quest'oggi a Chatot e Deliberd in Pokémon Sole e Luna si è parlato fino allo sfinimento di una possibile Formalola di Arcanine che però alla fine dei conti non abbiamo avuto. Allo stesso modo chi sostiene che la controparte di Surfetch debba essere un'evoluzione di Chatot e Deliberd perché questi ultimi avrebbero delle statistiche molto simili a quelle di Farfetch si trova di fronte con l'esempio di Sandslash e Ninetales ad una controprova schiacciante perché il totale delle statistiche del primo, ossia Sandslash, difetta di ben 55 punti rispetto al 505 che presenta Ninetales attestandosi dunque su un ben più modesto 450. Eppure da questa supposizione che in questo video abbiamo iniziato a smantellare credo si possa ricavare in realtà l'unico elemento effettivamente certo che possiamo inserire all'interno di questa speculazione ossia il fatto che il Pokémon che riceverà un'evoluzione gallariana esclusiva in Pokémon Scudo deve essere, come Farfetch del resto, un Pokémon a stadio unico. Se infatti Farfetch e Surfetch saranno esclusivi di Pokémon Spada allora è lecito supporre e pretendere, aggiungerei, che in Pokémon Scudo vi sia una controparte che conferisca l'esclusività allo stesso numero di mostriciattoli e dunque in quest'ottica ad un Pokémon a stadio unico che evolvendosi fornisca l'esclusività per l'appunto a due Pokémon. Peraltro sempre riferendoci al pattern individuato ad Alola con Ninetales e Sandslash l'evoluzione gallariana che farebbe da controparte a Surfetch dovrebbe effettivamente essere un Pokémon di canto in quanto sia Sandslash che Ninetales che Farfetch lo sono. Con queste supposizioni, a dire il vero, abbiamo già chiuso tantissimo il cerchio di alternative andando a comprendere al suo interno solo quei Pokémon di canto a stadio unico e che, è sempre importante ricordarlo, non abbiano ricevuto nel corso del tempo delle evoluzioni o delle pre-evoluzioni. I Pokémon che secondo questa ricostruzione sarebbero dunque papabili sono Farfetch, Pinsir, Kangaskhan, Ditto, Tauros, Lapras e Aerodactyl. E allora direi di iniziare a partire con l'eliminatoria. Farfetch, a meno che non si supponga una forma alternativa di Surfetch, è abbastanza improbabile e direi di escluderlo già a priori. Soprattutto perché il leaker del 23 maggio che già aveva leccato Surfetch non ne ha parlato il che quantomeno è abbastanza curioso. E allo stesso modo escluderei Pinsir, Kangaskhan e Aerodactyl a causa della loro mega evoluzione. Certo questa feature non sarà presente a Galar però mi sembra davvero strano che si voglia mettere sotto i riflettori dei Pokémon che hanno già avuto il loro momento di gloria per così dire. Ammettendo dunque per forza di cose che Game Freak faccia le cose per bene sarebbe quantomeno ambiguo tra l'altro vedere un Pokémon evolversi quando in potenza potrebbe effettivamente mega evolversi. E dunque dovendo ragionare per esclusione direi di accantonarli. Sotto la lente di ingrandimento restano quindi tre Pokémon che sono Ditto, Tauros e Lapras. Posto che di Ditto faccio molta fatica a immaginare un'evoluzione perché secondo me è un Pokémon già completo ma che comunque resta una possibilità e quindi non va scartato. Voglio indagare meglio sia Tauros che Lapras. Il primo perché forse è il più logico sotto certi punti di vista che metterò in luce a breve e il secondo perché la sua suggestione mi ha folgorato durante la stesura di questo copiona. Prima però di procedere è necessario un appunto che ci sarà utile più avanti per ragionare meglio soprattutto su Lapras. Benché infatti Ninetease e Sandslash abbiano ottenuto lo stesso tipo nelle loro varianti di Alola c'è a mio avviso la possibilità che ciò non accada con Surfege e con la sua controparte di Scudo. Difatti una curiosa coincidenza potrebbe, restando comunque molto cauti, darci un indizio importantissimo sul futuro tipo di questa nuova evoluzione di Galar. Ora Surfege è un Pokémon esclusivo di spada ed è di tipo Lotta. Ma anche il capopalestro esclusivo di spada, ossia Fabia, è di tipo Lotta. Se noi supponessimo che Surfege fosse il suo Pokémon principale e ciò sarebbe un ottimo modo per dare lustro a un Pokémon sempre bisfrattato dobbiamo postulare anche che in Pokémon Scudo, presso la palestra di Onion, capopalestra di tipo Spettro, vi sia un'eguale evoluzione di Galar di un Pokémon ovviamente di tipo Spettro. E certo questa non è altro che una mera speculazione, ma al momento credo sia l'unico modo effettivamente logico per provare a supporre coerentemente il tipo della controparte di Surfege. Vi ricordo tra l'altro affinché non fraintendiate cosa io intenda per tipo Spettro che dalla settima generazione in poi il concept di questo tipo è cambiato non riferendosi più solamente a fantasmi, ma in generale a creature che si muovono nell'ombra misteriose e la cui identità è sempre rimasta per certi versi celata. Esempi di questo tipo banalmente possono essere Mimikyu o Desiduai e la cosa, benché per Tauros non ci importi più di tanto, sarà vitale invece per Lapras. E il motivo lo vedrete tra poco. Detto ciò potremmo effettivamente essere giunti ad una conclusione perlomeno soddisfacente anche se non effettivamente certa. L'evoluzione di Galar che farà da controparte a Surfege sarà un'evoluzione o di Lapras o di Tauros di tipo Spettro, più chiaramente un ipotetico secondo tipo che questi Pokémon potrebbero avere. Ora però vorrei provare a parlarvi un po' più nello specifico di queste due opzioni mostrandovi come Tauros sia effettivamente quella più razionale e Lapras quella invece più sensazionale. Intanto in un certo senso Tauros è già posto di suo in relazione con Farfetch. Difatti in Pokémon GO entrambi rientrano in quella macro categoria di Pokémon che sono esclusivi di un determinato continente, in particolare Tauros è esclusivo del Nord America mentre Farfetch si trova prettamente in Giappone e in Corea del Sud. Come se ciò poi non bastasse, Tauros rispetto a Lapras ha un totale di statistiche ampiamente più basso che si aggira attorno al 480, numeri che gli consentono un margine effettivo per una sua evoluzione successiva mentre Lapras già si stanzia su un 535 che è un numero davvero spropositato. Contando che il Pokémon non leggendario con il totale di statistiche più alte, escluso Slaking che è già penalizzato dalla sua abilità, è Silvalli che ha 570 e che peraltro Lapras potrebbe avvantaggiarsi di un Evolve Condensa che di fatto lo renderebbe un carro armato vivente. Quindi sì, Tauros è sicuramente la soluzione più logica e più coerente e quella a cui sarei infine giunto se il concept di un Lapras forma Galar infine non mi avesse stregato. Come immagino tutti sappiate, Lapras è ispirato a Nessie, il mostro leggendario che si dice riposi all'interno del lago di Loch Ness in Scozia e forse basterebbe già questo per far capire ai più svegli cosa io intenda ma fatemi concludere il cerchio. Tale mostro, dalle sembianze di un plesiosauro, è stato più volte immortalato in presunti scatti fotografici che ne attesterebbero l'esistenza ma ovviamente non è mai apparso a grandi folle rimanendo perciò stesso un mistero che a dirla tutta negli ultimi anni si sta sempre più avviando verso la triste nomea di falso. A noi però ciò interessa poco in realtà perché il mostro di Loch Ness rimane comunque una creatura misteriosa sfuggente che appare e scompare tra le creste delle onde del lago come se fosse una figura spettrale e allora trovandosi questo lago in Scozia all'interno del Regno Unito che come sappiamo è la fonte di ispirazione di Galar quanto sarebbe dannatamente sensazionale e coerente allo stesso tempo trovarsi di fronte a Galar un Lapras evolutosi in una creatura più furtiva e meno accondiscente verso gli esseri umani che appare di sfuggita tra le onde di un lago e in questo modo crea delle leggende popolari tra i popoli che vi abitano vicino chissà magari delle leggende popolari che porteranno il giocatore stesso a verificarle in onore se vogliamo anche della famosa quest di Lapras presente all'interno di Pokemon HeartGold e SoulSilver e ancora mi domando se la sua evoluzione dipendesse in un certo modo dallo sviluppo industriale del genere umano che come ben sappiamo ha iniziato a mancare di rispetto alla natura e magari tempo addietro anche a Lapras stesso forse quest'ultimo per sopravvivere ha dovuto iniziare a diffidare di loro ad apparire ai loro occhi sempre più raramente a celarsi sotto la superficie dell'acqua non diversamente da come Mimikyu fa con il suo costumo e magari ipotizzo un giovane Lapras che noi sappiamo essere un Pokemon molto vicino agli esseri umani potrebbe essere stato istruito a Galar dai Lapras più grandi a diffidare di quest'ultimi e magari proprio in questo suo cambio di carattere si cela la natura della sua evoluzione tempo fa ricevetti un commento in cui mi si chiese se secondo me all'interno di Galar ispirata al Regno Unito si potesse avere un Pokemon ispirato in un qualche modo alle leggende di Loch Ness e io ai tempi risposi di no perché c'era già Lapras ma ad oggi vorrei tanto aver avuto torto perché già nella mia testa sto immaginando un Lapras circondato da nebbie spettrali al centro di un lago e che magari in fin dei conti non sta aspettando altro che un essere umano che non solo si avvicina al suo luogo di nascita ma magari dopo tanto tempo anche al suo cuore e sì come ho già detto ci sono elementi che rendono tutto ciò irrazionale e illogico e forse se avessi seguito più convintamente la pista di Tauros probabilmente mi sarei avvicinato di più ad una verità che comunque rimane aleatoria eppure quest'oggi consapevole di essere un po' uscito dalle linee guida del canale ossia la razionalità ho deciso di regalarmi in un qualche modo una sorta di sogno sarò comunque contento se dovessi trovarmi un giorno di fronte a un'evoluzione galariana di Tauros perché saprò di aver ragionato correttamente ma per una volta mi piacerebbe che a trionfare fosse una bella sensazione e non la ragiona nella speranza ovviamente che questa bella sensazione che ho provato nel parlare di un'evoluzione galar di Lapras sia giunta infine anche a voi bene ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto se è così vi invito ovviamente a lasciare un mi piace un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti mi raccomando passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed detto ciao ragazzi noi ci becchiamo in un prossimo video